Ma potevo non fare il pre-GP del Gran Premio di Misano, potevo io non fare il pre-GP di Misano, è ovvio che lo faccio ragazzi, non vi ho portato il boss qualifiche perché mi son tenuto questo video. Io non posso credere a quello che cavolo ho visto ieri, di Gian Antonio Pole Position, è prima fila, tutta Ducati, Gresini, Sky Team, Sky Valentino Rossi Team, a Misano a casa nostra, di Gian Antonio Bezzecchi è il fratello di Valentino Rossi Luca Marini. Cosa? Io non sto capendo ancora, devo ancora metabolizzare la Pole Position di Gian Antonio perché è incredibile, è Jackie Miller che viene eliminato in Q1, ma che cazzo di qualifica abbiamo visto oggi? Non posso credere alla qualifica che abbiamo visto, non posso crederci. La pioggia, teoricamente non ci dovrebbe essere pioggia, quindi se c'è pioggia sia chiaro vince Oliveira, perché ragazzi quello ormai è un dato di fatto, ogni volta che c'è la pioggia vince Oliveira e soprattutto sei a Portimao. Se è Portimao che parta quindicesimo, che parta secondo, vince sempre. Intanto warm up con l'aprilea che sta davanti a tutti nel warm up, ma veramente incredibile ciò che ho visto. La qualifica che ho visto è un qualcosa di eccezionale. Con Pecco che alla fine limita i danni, partirà quinto, quindi è buono. Non è buono, però è buono. Pezzecchi, Pezzecchi secondo ragazzi, gli mancava uno sputo per arrivare in pole position. Di Gian Antonio ha più grande delusione fino a queste gare ragazzi, perché sia chiaro cosa ha fatto di Gian Antonio nelle prime sei gare in Catania, Indonesia, Argentina, Americhe, Portogallo, Spagna e anche Francia. Cosa ha fatto nulla? Non ha fatto niente di Gian Antonio. Ha delusione più grande tra i ruchi, forse insieme a Raul Fernandez. E cosa ci caccia fuori una pole position? Non è possibile veramente. Qualcosa di incredibile, è stato anche ritirato il numero 46 che rimarrà sempre nei cuori di tutti gli appassionati. Probabilmente sarà ritirato quando si ritirerà, visto che avrà anche fare un'operazione ragazzi. Mark Marquez sarà ritirato anche il suo numero il 93. Peccato, perché ci avevo sperato in qualche cosa. Ad esempio Michele Pirro, che arriva a quarto come wildcard. Johan Mir, che non si qualifica manco al Q2. Partirà ultimo la Yamaha di Dovizioso. Poi Fernandez, poi a sorpresa. Maverick Vignales così indietro. Poi Morbidelli, poi Salvadori e wildcard. Rins, Binder, Garner, Derrin Binder. Gardner, Marquez, Johan Mir, Brad Binder, Miguel Oliveira. Michel Pirro, Jackie Miller e Mark Marquez. E di Gian Antonio. Qualificati al Q2. Ma poi è successo qualcosa di assurdo. Arriva la pioggia, c'è chi tenta le slick. Poi c'è stata anche bandiera rossa per l'incidente da parte di Marquez. È stato anche un brutto incidente. Cioè è stato molto bello a vedere. Ma alla fine, ragazzi, questo Q2 è un qualcosa di assurdo. Partiamo. Dodicesimo nel Q2 arriva Marquez. Undicesimo partirà Johan Mir. Decimo partirà Bastianini. Nonno Polespargero. Ottavo Tarkakina Kagami. Ancora molto bene le qualifiche. Settimo Leish. Sesto quarto Raro. Quinto Pecco. Quarto Johan Zarco. Luca Marini. A 171 millesimi. Terzo. Secondo. Marco Bezzecchi. A 88 millesimi. Dall'uno 46-156. Di Fabio Di Gian Antonio. Poi position. Per Fabio Di Gian Antonio. Ma adesso aspettiamo. Può essere una buona gara per Johan Zarco. E per Pecco Bagnaia soprattutto. Ma lo deve approfittare anche Fabio Quartararo. Io penso che Di Gian Antonio alla fine si assesterà. Verso la decima quindicesima posizione. Bezzecchi idem. E forse Marini anche ottava. Ma ragazzi può essere un super weekend per Johan Zarco e per Pecco. Secondo me io scommetto una brutta partenza di almeno uno dei tre in prima fila. Ma potrebbe capitare vista l'inesperienza sia a Di Gian Antonio che a Bezzecchi che a Marini. Marini però fino ad ora molto deludente. Non ce lo neghiamo. Marini fino ad ora è stato molto deludente. Perché già un anno di esperienze in cui aveva fatto malissimo col team di Sponsorama. Insieme a Marco Bezzecchi. Però alla fine a Marco Bezzecchi. A Enia Bastianini. Poi al posto delle Sponsorama è arrivato ragazzi il team di Vole. Lo sta facendo benissimo fino ad ora. Si sta un po' ripenedendo. Comunque fateci caso. Le prime cinque posizioni tutte, tutte Ducati. E la prima fila moto italiana. GP italiano. Piloti italiani. E dalle prime cinque posizioni cinque moto italiane. E quattro piloti italiani. Veramente chapeau. Chapeau. Poi c'è il mix a panino con Bagnaia. I due francesini. Ioanzarco e Fabio Quartararo. Mamma mia. Decine basta. Solamente decine a Bastianini. Peccato mi aspettavo leggermente di più. Poi è sempre bello ragazzi. È il gran premio di Misano. Vedere sempre le wildcard. C'è Michele Pirro come wildcard. C'è Luca Salvadori. Che era pilota l'anno scorso. Poi era stato sostituito. Ve lo ricordate? Quando Vignale si è stato cacciato da Yamano. Non lo voleva nessuno. E invece è andato con Aprilia. Che l'ha anche rinnovato fino al 2026. Questo fa capire che c'è tanta fiducia in casa Aprilia. Sia con Aleish. Ovviamente potrebbe essere diverso. Ha portato alla prima vittoria. Al primo podio l'anno scorso. Se non sbaglio. Alla prima pole position. Enea Bastianini sta facendo un capolavoro. Aleish Aspargaro sta facendo un capolavoro. Ma c'è anche un capolavoro dietro le quinte. Perché non possiamo negare che ci sia un capolavoro anche dietro. Con il team Aprilia. Purtroppo ragazzi. L'anno scorso c'è stato l'incidente. Ci ricordiamo nelle qualifiche. Di Moto3. Di Dupasquieu. Dupasquieu purtroppo era nell'FP3. Non me lo ricordo molto bene. Comunque andiamo a vedere anche le griglie. Magari di Moto3 e Moto2. Con Moto3 che partirà ragazzi. Con tanti piloti. Tra gli italiani c'è Bartolini. Che partirà decimo. Non è decimo. Arrivato nel Q1. Decimo. Andiamo a vedere prima il Q1. Con primo Yamanaka. Secondo Bertelle. Terzo Fellon. Quarto Munoz. Quinto Adrian Fernandez. Sesto Kelso. Settimo Ortolà. Ottavo Furusato. Nono Agi. Decimo Bartolini. Decimo Bartolini. Dicesimo Toba. Dodicesimo Xavier Artigas. Tredicesimo Voltei. E quattordicesima Anna Carrasco. Mentre faccio senza tempo. Purtroppo Alberto Surra. Q2 invece che si è concluso. Con la pole position. Pole position di Denis Onciu. Secondo il Gado. Terzo Foggia. Questa è la prima fila. Poi seconda fila con Sergio García. Isanghevara. Ision McPhee. Terza fila invece con Diogo Moreira. Riccardo Rossi che ha fatto bene. Ottavo. Nono Yamanaka. E poi a seguire. Jaume Masia. Tatsuki Suzuki. Lorenzo Fellon. Matteo Bertelle. E poi tutti gli altri. Scott O'Nogden. David Munoz. Andrea Migno. Tatai. E Stefano Nepa. Queste ragazzi. Il moto. La moto 3. Mentre invece andiamo a vedere prima. Il moto 2. Il Q1. Con Pasini. Tony Arbolino. Alderger. Marcos Ramirez. Alonso Lopez. Schrotter. Alcoba. Azzaccone. Salaz. Ciantra. Simone Corsi. Van de Groben. Van de Gorben. Non lo so pronunciare. Van de Borgen. Qualcosa del genere. Manuel Gonzalez. Antonelli. Gabriele Rodrigo Cubo. E Dylan Kelly. Queste qua le posizioni nel Q1. E il Q2 che si è concluso con la pole position. Da parte di Aaron Canet. Seguito da Predo. La Costa e Shenlows in prima fila. Seconda. Con Celestino Vietti. Mattia Pasini. E Aio Gura. Successivamente. Joe Roberts. Tony Arbolino. Jackie Dixon. Bal. Baltus. Dalla Porta. Navarro. Alenaz. Augusto Fernandez. Alderger. Marcos Ramirez. Ben Sneijer. E Bobby E. Comunque queste ragazzi. Le prime file. Tutte le qualifiche. Poi c'è stata anche la moto E. Vai ne parliamo anche della moto E. C'è stata anche la prima gara. Gara 1 della moto E. Che farà gara doppia. Qua a Misano. Con la vittoria a Getter. Seguito da Matteo Ferrari. Granado. Casa Dei. Alcoba. Canepa. Pons. Zannoni. Garzo. Manfredi. Okubo. Xavi Forest. Finello. Eskrig. Roccoli. Herrera. E Mantovani come è partito. Questi ragazzi. Come si è conclusa. Anche gara 1 di moto E. E allora. Io vado a vedermi la moto 3. Non fare il post gara probabilmente. Comunque ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.